Ma ti rendi conto? È assurdo. Mi sembra assurdo che te ne importi così tanto. Tu non capisci Kachan, All Might è una catgirl. Non può essere. Non me ne frega nulla di chi si scopa All Might, basta che continui a fare bene il suo lavoro. Sei un irresponsabile, come puoi dire certe cose con questa tranquillità? Che cazzo hai detto? Ehi amici, che fate qui? Oh ehi, ciao Kirishima. E ora che vuoi, tornatene al tavolo dei personaggi secondari. Cosa? Ma ho il vostro stesso screen time. Se ti piacerebbe. E poi al vostro tavolo c'è pure Mineta. Eh, e sto baccarozzo da quanto tempo è qui? Sono qui, fin dall'inizio. Avete sentito che Iida è finito in coma? Chissà quale criminale l'avrà ridotto così. Iida è finito in cosa? Sei serio? Sì, credevo l'avessero detto anche a voi. Attualmente non si sa chi sia stato. Ehi Deku, il capoclasse dei coglioni non era insieme a noi ieri? Tecnicamente è il nostro capoclasse, quindi è come se ci avessi dato dei... E sta zitto? Per caso qualcuno ti ha dato il permesso di parlare? Ti prego perdonami, non lo farò mai più. Quindi Deku, come stava Iida quando l'hai visto per l'ultima volta? Oh che puzza, qualcuno qui ha riempito il pannolino. Dai Mineta, dobbiamo proprio andarcene, vero? Smettila di chiamarlo pannolino. Ti ho detto che è il mio costume. Ci rivediamo però ragazzi, a domani. Ma che gli è preso? Ah boh, valli a capire gli sfigati. Mineta, devi promettermi di non dire a nessuno che ho usato il one for all su Iida. E io che ci guadagno? Ma che, mi stai ricattando? In nome di eroe devo segnalare ogni malfattore. Venire a meno di questo dovere ha un suo prezzo. E va bene, farò quello che vuoi, come posso sdebitarmi? Avrei già un'idea in mente.